Come faccio a calcolare l'indice di massa corporea dei bambini? Calcolo dell'indice di massa corporea di una persona, che è un numero ottenuto da un'equazione matematica che tiene conto dell'altezza del peso di una persona, si è dimostrato un indicatore affidabile per lo screening dei problemi di peso che potrebbero portare a problemi di salute. Quando si calcola l'indice di massa corporea di un adulto, il numero diventa un indicatore del fatto che una persona sia sovrappeso o obesa. Allo stesso modo, il calcolo dell'indice di massa corporea dei bambini si traduce in un indicatore simile se un bambino è sovrappeso o obeso, ma serve anche come indicatore di se un bambino è a rischio di diventare sovrappeso o obesi. Per calcolare l'indice di massa corporea dei bambini, devi prima avere le variabili da inserire nell'equazione. Devi avere il peso e l'altezza del bambino. Ci sono due formule per calcolare l'indice di massa corporea dei bambini, uno usa chilogrammi e metri e uno usa libre pollici. Non sono la stessa formula, ma se funzionano correttamente calcoleremo la stessa risposta. Se stai calcolando l'indice di massa corporea dei bambini in base al peso e all'altezza in chilogrammi e metri, la formula è indice di massa corporea uguale peso, Kg, diviso per l'altezza del bambino in metri quadrati. Ad esempio, prendi un bambino che pesa 45,5 chilogrammi ed è alto 1,5 metri. Per calcolare l'indice di massa corporea del bambino di esempio, devi prima moltiplicare 1,5 volte di se stesso, 1,5 x 1,5, per raggiungere 2,25. Quindi dividi il peso, 45,5 chilogrammi, per 2,25 a un indice di massa corporea di 20,2. Arrotonda tutti i numeri oltre il decimale nel calcolo al decimo più vicino. Quando si misurano peso e altezza in libre e pollici, la formula per calcolare l'indice di massa corporea dei bambini è il peso in libre volte 703 diviso per l'altezza in pollice al quadrato. Prendendo l'esempio di qui sopra, il peso del bambino in sterlina è 100 e la sua altezza in pollici è 59, o poco meno di 5 piedi. Prendendo il peso di 100 sterline e moltiplicando il tempo 703 ci dà 70.300. Moltiplicare le stesse altezze di esempio è uguale a 3481. La divisione di 70.300 per 3481 ci dà una risposta dell'indice di massa corporea calcolata di 22 quando arrotondata al decimo più vicino. Calcolare l'indice di massa corporea dei bambini è molto più semplice dell'interpretazione della risposta perché, diversamente dagli adulti, i bambini non crescono. Ciò significa che la loro età deve essere presa in considerazione così come la loro cronologia di crescita. Viene fornito un indice di massa corporea per misurare l'indice di massa corporea dei bambini e fornire indicatori percentili che tengono conto dell'età e del sesso. Per aiutare a interpretare l'indice di massa corporea dei bambini, è possibile rappresentare graficamente le informazioni su un indice di massa corporea corretto per sesso che indica percentili medi. Ad esempio, un ragazzo di 18 anni con un indice di massa corporea 22 cadrebbe appena sotto il 25 gradi percentile, il che significa che almeno il 75% dei bambini della sua età avrebbe un indice di massa corporea più alto del suo. Viceversa, se un bambino di 9 anni ha lo stesso indice di massa corporea di 22, sarebbe nel 95 gradi percentile, il che significa che il 95% dei bambini ha un indice di massa corporea inferiore al suo. Nell'ultimo esempio, questo bambino verrebbe probabilmente considerato in sovrappeso in quanto un indice di massa corporea che scende al di sopra del 90 gradi percentile è un indicatore di sovrappeso. L'eccezione a questo potrebbe essere se la altezza, il peso e l'indice di massa corporea di un bambino sono rimasti nello stesso intervallo percentile, alto o basso, in modo coerente da quando è iniziata la loro crescita. Questo potrebbe essere il caso di un bambino con massa muscolare insolita o altezza sopra la media. Con o senza la presenza di un grafico di indice di massa corporea appropriato per il genere, i calcoli dell'indice di massa corporea da bambini possono ancora essere difficili da interpretare. Come regola generale, l'indice di massa corporea dei bambini non deve basarsi sui calcoli degli adulti poiché un indice di massa corporea ideale per gli adulti è compreso tra 19,1 e 25,8, che può essere o non essere l'ideale per un bambino a seconda dell'età, del peso, dell'altezza e della crescita storia. Se sei preoccupato per il peso del tuo bambino, parla con il tuo pediatra o il tuo medico di famiglia. Possono calcolare e interpretare lo sviluppo fisico generale del bambino e valutare i rischi e fornire un intervento se necessario.